Città blindata, ieri pomeriggio un'operazione ad alto impatto degli uomini del commissariato di polizia di Nocera Inferiore, diretto dal vicequestore Agnello Ingenito. Uomini e mezzi nei punti sensibili della città, a garanzia della sicurezza e tranquillità dei cittadini. Con l'ausilio del reparto prevenzione e crimine della campagna, ieri pomeriggio e fino a sera, gli agenti di polizia hanno presidiato vari punti della città. Tra questi l'area circostante e la stazione ferroviaria per controllare anche il traffico passeggeri che scendeva a Nocera Inferiore. È una prima risposta, peraltro, programmata già da giorni alle risultanze del vertice Interforce, svoltosi ieri mattina a Palazzo di Città, voluto dal sindaco Paolo De Maio, nell'ambito dei controlli nel corso dei quali sarebbero state sanzionate anche attività commerciali ed imprenditoriali ed operati controlli amministrativi, oltre ad essere state elevate contravvenzioni al codice della strada per gli automobilisti e i motociclisti, sarebbero emerse importanti riscontri ad attività di indagine sui recenti fatti di cronaca che hanno visto protagonisti i minori negli ultimi giorni nella città di Nocera Inferiore non solo e che potrebbero già vedere attuate le recenti misure del governo annunciate e varate ieri dal Consiglio dei Ministri sui minori e la criminalità.